ricetta colazione caffè maca una ricetta per una super colazione a base di caffè maca ricetta da il granero integrale tempo di preparazione 5 minuti tempo di cottura 0 minuti tempo impiegato 5 minuti numero di commensali 1 anno stagione tutto l'anno difficoltà molto facile tipo di cucina mediterranean categoria piatto dolce colazione ingredienti un mezzo banana un cucchiaio di caffè ai cereali uno pizzico di cannella un cucchiaio di superfood maca un cucchiaino di zucchero di cocco un cucchiaino di cacao in polvere uno bicchiere e mezzo di bevanda vegetale passi passo 1 in uno vuole aggiungere gli ingredienti passo 2 batti tutti gli ingredienti passo 3 servire la ricetta di el granero integral presso bio trattino farma punto es